Chiudendo questo nostro piacevole incontro, mi viene da chiederle qual è il primo consiglio che darebbe chiunque sia al suo successore dovendogli parlare di questa diocesi? Quello che si può dire. Io direi non aver fretta di parlare, ascolta molto. Le farà da bracciere? Le farà da bracciere? Ma io non sono ceraiolo, quindi come faccio a fargli da bracciere? Però l'ha imparato in questi 12 anni. Qualcosa ho imparato, però non lo so, vedremo. Non ho ancora, sono orientato, però non ho deciso niente. Sono anch'io in attesa e poi vedremo. Però posso dire con sincerità e verità che io non so niente. Questa è la verità. Io non so niente circa il mio successore. E le arriverà una telefonata dall'annunzio. E aspetto notizie, o mi arriva la telefonata dall'annunzio, o più probabilmente arriverà la lettera dell'annunzio dove mi si dice chi è la persona che verrà a sostituirmi. Ma più di questo non so. Grazie. Grazie.